Michele Bosco, Presidente del Comitato Terre di Punta a Derci, per tutta questa zona che è la parte nord del territorio di Vasto, cosa avete chiesto in merito alla viabilità all'amministrazione comunale? Sì, abbiamo parlato col sindaco, però diciamo che è ancora in una fase di studio e vorremmo che fosse incentivato, perché siccome questa fascia è limitrofa alla statale per tanti chilometri da San Salvo a oltre Casalbordino, vorremmo comprendere, diciamo, cercare di investire anche l'ANAS in questo, proponendo una segnaletica ad hoc particolare, perché bene o male conosciamo le autostrade dei cinghiali che attraversano perché sono abitudinari, forse sarebbe il caso di indicare un tipo di segnaletica temporanea un pochino più incisiva rispetto a quello della segnaletica ordinaria di animali vaganti, perché ormai viene trascurata, cercare di trovare un sistema per avvisare gli ignari automobilisti che passano per il territorio, diciamo. Grazie